Canto per la Madonna di Spagna. Canto per la Madonna di Spagna. Lei è molto devota della Madonna di Spagna? Canto per la Madonna di Spagna. Canto per la Madonna di Spagna. Canto per la Madonna di Spagna. Allora le sette venivano a casa, senza sapere niente. Troppo bello voi, un gruppo voi. Pregavate poi insieme, no? Pregavate la Madonna di Spagna a pregai? Ma lei è molto devota a questa Madonna che si chiama Madonna di Spagna, no? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche distinta noi all'Amadona di Spagna in chiesa, è andata bene in chiesa, chiesa nostra diremmo. A San Vero? No, ma sicura. Sì. Troppo bella voi, troppo ammirata voi. Ascolti, ma... Ma sai perché? Ma vede la santa, in chiesa, tutte e tante, santa sono. No, la Madonna di Spagna. Madonna di Spagna. Madonna. Ma questa Madonna di Spagna è anche bruciata, vero? È bruciata? Eh, ma c'è via antifatta, io, sa. Non ti lasciate via, comprendi? E ma è vero? Non ti porta e basta. La dente è brutta, ecco. Eh. Chi non la volevano, si incacciavano dentro, non scevano per niente. Ma... Lei, quando l'ha vista la prima volta bruciata, che cosa ha pensato? Che... Che... Della Madonna? Non lo sapevamo, ma... L'avevamo vista, sì. Ma non bruciata. Era brutta, giordinata. Ma... Ma... E basta. Ah, San Madonna è piena. Adomo. Poi si beve, è meraviglia, avere l'Amadonna in casa. Poi mi dobbiamo... Lì, però non la faccia via uno a uno. Io mi metto in bando, chi vuole il piacere della preghiera della Madonna di Spagna, stasera, a Pallora, a casa di domenetina più. Un gruppo ce l'ha. Lei, venete là. Vengono tutti di là, facciamo una riunione. Tutto seggia. Don Tolo. 30 anni, non risponde. Ma fai dire, scusate, io sono in disordine. Ordine non ne ho. Ho la casa per il mio ordine. Però ordine per tutto il paese non ne ho. Venevano tutti il paese, tutti il paese. Come facevo? Uno assedio di ognuno. Ma cambia io. Mi veniva un. Ma non si arrabbiavano. No, no. Restevo in piedi, anzi. Anzi, col piacere che ho avuto di tenersi a casa. E quello, perché molta gente dice, ah, faccio a cercare questo sacramento su un dono. Poi, quando mi hanno pagato. Poi, quando mi hanno pagato la casa, io voglio uscire la conca. La prima è che se gli fanno i vestiti. Ti, paga tutto. Ma si dà la conca. Ma si dà la conca. E te, tu vieni su dei nanti, o ti vieni a incostore. Lei era contenta di avere la Madonna in casa, vero? Stupida, non scrivendo tanto a voi. Tonta. Tonta che stavano. Tantui. Siga a pregare, venga e prega. Prega, buono, nozze e prodotto. Cad'è io che era pregare i prodotto? Poi, che non ti fai più. E solo qui c'è un nozzo. E se dà la tua, terrici. E dà un dinaro, terrici proprio. E se c'è un nozze. E non mi ha detto. E è Madonna, è Madonna. Madonna è come Deus. Deus è ricci tutto. Bello è male. Non mi distingue dai dubbi di sacco. Non dubbi di un nozze. Nosse è sempre bello. E se vivo, siete. Sempre ha usato dentietà, scurato. Non compro nozze, non si chiede, non si chiede, non si chiede. Non si chiede, non si chiede, non si chiede. 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 E le dicevo. Devo come prego, preghiato, e poi escuto come ti narrivo, e poi si chiede a vato tra pastelli, e non teme, donare, come ti chiede a Dio, padre, nocchi, e se ne eccetera. Poi te lo intendo. E' così, da punto, ecco, poi te lo intendo, che non ti permesso a donare, perché sono vecchi. Stavano in tre suborbos, e pare che a due gini dentro, come stanno a vostè, come stanno a domenica, beato come ti schi preghi, come ti schi preghi. Tutti preghi, quando mai vostè ne schi, padre è nostro, Ave Maria, gloria, non dici, cosa di Dio? Cosi se preghi? Vostè come di prego, prego da Dio, padre è nostro, quando arqueria non è Ave Maria e Daudo, gente vecchia. Dio, non aveva femminile da Uro, Dio, scudo, hai gusto puro, non ti bezzas. Sono contente, che sono delle vecchi anche di là. e poi venivano in Sia Vizzocca, e poi venivano in Sia Vizzocca, e venivano tutti i tre ghi, e poi, non è la Sia Vizzocca bella, non è? Tutta punta a punta, non è? Ma è il nostro, il gruio è il padre, l'altro, il Domeno, e tutto, non è? Ma come non è la Rosa ora? ha parlato delle indietro, è una storia, porti il quaderno, le leggi tutto. Grazie Zia Domenichina, grazie vostra Madonna di Spagna. Domenichina disse, che cosa vera, Domenichina disse, che amava Domenichina e Sia Vizzocca, ma temei, disse che è povere, che era io, non credo, che non gli sfrati, e da per conto sempre. Andava a punti, ha pregato a vostè, iiiiiiii, sorpreso, che viene, è tutto sarrutto, mi deve. E lui, non ti schiena, 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 grazie Zia Domenichina. E poi, stai contenta, vabbè, vabbè, grazie.